In questo laboratorio dell'Orto Botanico di Cagliari, Alba osserva la crescita dell'agenziana, pianta del gen argentue e ottima cartina di tornasole per capire quali sono gli effetti del surriscaldamento globale in Sardegna. La ricercatrice fa parte del team del docente di botanica Gianluigi Bacchetta, tra i massimi studiosi del tema. Il nostro territorio si sta modificando nelle sue componenti, sia vegetali che animali, con una invasione progressiva di specie esotiche che arrivano da altri continenti e una migrazione più a elevate quote di tante specie che non riescono più a trovare delle nicchie ecologiche adeguate per poter compiere i propri cicli vitali. È il caso per esempio dell'agenziana. 50 sonde termometriche sparse per l'isola monitorano l'evoluzione delle temperature e dimostrano cosa accade ai vegetali, sentinelle e loro malgrado del cambiamento climatico. Modificazione dei regimi pluviometrici, eventi alluvionali estremi, e lo abbiamo visto recentemente con i vari fenomeni alluvionali che si stanno ripetendo costantemente. Dalle punte del Gen Argento alle zone più siccitose che hanno subito in modo profondo le terribili estati 2016-2017. Ci stiamo avvicinando pericolosamente a questa situazione della quale siamo già avvisati da oltre 50 anni.